Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sciacca ha rinviato a giudizio esacenzi Lino Conticello di 48 anni e Giuseppe Marciante di 38 anni. Sono accusati di violenza sessuale ai danni di un minore che nel corso della precedente udienza si è costituito parte civile. Secondo l'accusa Conticello avrebbe abusato del giovane mentre Marciante è accusato di avere convinto il ragazzo a recarsi presso l'abilitazione di Conticello che ieri ha voluto fare delle dichiarazioni in aula per respingere le accuse che gli vengono mosse. L'udienza era in programma in realtà per il 28 ottobre prossimo ma è stata anticipata ieri perché oggi sarebbero scaduti i termini della misura cautelare in carcere per i due indagati. I loro legali, gli avvocati di Borodan e Giovanni Forte hanno chiesto la revoca del provvedimento in subordi nell'applicazione degli arresti domiciliari. Il processo prenderà il via il 19 ottobre prossimo. La vicenda era venuta fuori nell'ambito dell'operazione antidroga denominata Pitbull messa a segno nello scorso mese di marzo dai carabinieri della compagnia di Sciacca e che ha consentito anche di fare luce su un presunto giro di droga in città. Giuseppe Marciante oltre che per la grave accusa relativa alla violenza sessuale deve rispondere infatti anche del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Per gli inquirenti avrebbe anche cercato di indurre molti giovani, anche minorenni, ad avviarsi al consumo di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata denominata Pitbull dal nome utilizzato dagli indagati per chiamare convenzionalmente una confezione di droga nascosta nel tentativo poivano di sfuggire ai controlli degli investigatori che avevano invece rinvenuto un involucro contenente oltre 100 grammi di marijuana. Ieri il GUP solamente per i fatti di droga ha disposto il rinvio a giudizio per Giuseppe Indelicato di 51 anni di Campobello di Mazzara e per i saccensi Luigi Palumbo di 20 anni e Francesca Capizzi di 54 anni. Prima udienza sempre il 19 ottobre prossimo. Sempre per droga oltre a Marciante anche un altro saccense coinvolto nell'operazione Giovanni Cocchiara di 22 anni aveva chiesto la scorsa settimana di essere giudicato con il rito abbreviato e l'udienza è prevista per il 25 novembre prossimo.